36 squadre da tutta Italia, oltre 700 atleti e 1600 persone attese in città. Arezzo ospita la 34esima edizione del trofeo giovanile Guido Guidelli, una delle manifestazioni cestistiche più longeve del panorama nazionale e uno degli eventi sportivi più fortunati del territorio locale. Il torneo è riservato alle categorie under 12, 13 e 14 ed è organizzato come tutti gli anni dalla scuola basket Arezzo. Un'attenzione particolare alla sicurezza di questi ragazzi che giocheranno in ben 8 impianti della provincia aretina, 5 nel capoluogo, 1 a Castiglion Fiorentino, Civitella in Valdichiana e Laterina. Il palestra è stato immediatamente al momento dell'acquisizione del bando dotato subito del DAE, perché ovviamente è un obbligo. In più, oltre ad avere come società sportiva diverse persone, i nostri allenatori sono tutti dotati del certificato per l'uso del defibrillatore, quest'anno ci è stato spiegato in provincia di Arezzo che come si deve interpretare questa legge regionale che coinvolge le società sportive. La legge dice che se una società, oltre che nella propria palestra, fa attività sportiva in altre palestre pur dotate di DAE, ma le persone che seguiranno i ragazzi devono essere abilitate per l'uso del DAE. Pertanto abbiamo fatto immediatamente, un mese fa, un corso accelerato per i defibrillatori. Adesso penso che siamo in realtà abbastanza col certificato, con la stellina, perché sono quasi più di 50 le persone della nostra società abilitate all'uso del defibrillatore. Quindi siamo orgogliosi di questo, anche se è stato un costo, ma siamo molto orgogliosi perché la sicurezza deve essere per i ragazzi, deve arrivare prima di tutto.